come ti chiami gli orsi ce l'hanno un nome certo così il mio nome è come scusa certo signor brown non dica parolacce la prego mi aspetti è venuto qualcuno a prenderlo tutti via è tardi dovrà venire a stare da noi non se ne parla ma papà è così imbarazzante non possiamo lasciarlo qui certo che possiamo non è di nostra responsabilità è un orsetto bisognoso del nostro aiuto è solo per una notte finché non troviamo le persone giuste che badino a lui d'accordo bentornati sapevate che charlice theron ha la mania di cenerentola che cos'è vi chiederete voi pare che sia una cosa abbastanza diffusa a hollywood e consiste nell'essere ossessionati da ordine e pulizia al punto di diventare compulsivi charlice theron vede nel disordine degli armadi un nemico del suo karma quando mi sdraio a letto non riesco a dormire perché penso mi sa che nell'armadio ho visto qualcosa che non dovrebbe essere lì ha ammesso la bella attrice australiana charlene se vedessi il mio armadio ti verrebbe una chiusa isterica mi sa altro video altra curiosità a presto grazie grazie grazie